salva gente allora sembrerebbe che nello spogliatoio dell'atalanta ci sia pronta una polveriera e una miccia lì pronta ad accendersi a far esplodere tutto di cosa sto parlando ne andiamo adesso a discutere subito dopo che voi vi sarete iscritti perché vi dovete iscrivere al canale se non avete ancora fatto tasto qui sotto iscriviti campanellina importantissima per rimanere aggiornati su tutti i contenuti del canale che sono calcistici ma anche qualcosa di extra calcistico e soprattutto alla fine dei video ricordarsi di lasciare un like che è un gesto che non costa nulla ma per il canale è importante allora di cosa stiamo parlando voci sempre più insistenti già da ieri ma in realtà scopriremo adesso che già da qualche giorno parlano di prossime dimissioni di gasperini o in alternativa di un papu gomez che a gennaio potrebbe essere allontanato e quindi ceduto dalla società atalantina tutto questo perché sembrerebbe che tutto nasca da l'ultima partita di champions contro il midland ovvero a un certo punto tra primo e secondo tempo ma già in campo durante il primo tempo gasperini cerca di dare delle indicazioni al papu gomez di cambiare leggermente la sua posizione nel campo perché vede l'allenatore ha tutti i diritti di intervenire essendo responsabile tecnico su quello che vede in campo vede più possibilità o di copertura di attacchi adesso non so cosa passasse in mente a gasperini in quel momento comunque di posizionare in modo diverso papu gomez per il bene della squadra di solito funziona così quindi se un allenatore pensa che il portiere sta meglio in attacco il portiere deve andare in attacco cioè non c'è da discutere su questo invece a quanto pare il primo tempo termina con gomez che in realtà non si sposta dalla sua posizione ed ecco lì che il rientro dentro lo spogliatoio diventa animato in quanto così ragazzi così sembrerebbe non ci sono certezze di di solito non mi piace parlare di cose dove non ho la certezza ecco se stasera dopo la partita di champions e non lo dico così tanto per dire gasperini dovesse dare le dimissioni allora se ne può parlare però visto che amici atlantini me ne stanno chiedendo un'opinione in merito la ricostruiamo per chi non sapesse cosa è avvenuto e vi do questa mia opinione quindi si rientra negli spogliatoi e ovviamente gasperini irritato e infastidito dall'atteggiamento di gomez lo prende a muso duro non so in che modo insomma sappiamo che gasperini non è proprio simpaticissimo è abbastanza spicoloso e ai suoi modi di di interagire però insomma sono cinque anni mi sembra che sta all'atalanta quindi ormai si conosceranno l'atteggiamento resta il fatto che questa volta il papu gomez non la prende affatto bene e a sua volta risponde all'allenatore e qui si aprono due strade c'è chi dice che che si accende una discussione si sfiora la rissa fra i due interviene addirittura ilicic che in realtà prende le difese del compagno ma che comunque nonostante anche lui vada a diciamo ad affrontare il suo allenatore però cerca anche di di staccare i due quindi c'è un due contro uno in quel momento abbastanza animato questa è una versione una seconda versione invece se un pochetto più estrema ripeto tutto da verificare sia una che l'altra versione sembrerebbe che invece il papu gomez non solo abbia discusso fortemente nell'intervallo ma o nell'intervallo o addirittura a fine partita comunque sembrerebbe questa discussione fosse ripresa con papu gomez che alla fine sferra un colpo al suo allenatore tutto questo ripeto una ricostruzione che non so da chi sia stata fatta ma che viene comunque riportata tra le due versioni ovvero quella della discussione accesa che si è prolungata fino a quella del colpo addirittura di papu gomez verso il suo allenatore questo porta inevitabilmente l'allenatore a nella partita successiva infatti l'abbiamo notato tutti cosa che non è mai successa in questa in queste due stagioni ovvero porta l'allenatore gasperini a lasciare fuori fuori dai convocati proprio papu gomez contro la partita colludinese che non si disputerà verrà rinviata però intanto la formazione ufficiale non prevedeva gomez e non prevedeva neanche ilicic questo perché proprio perché ilice quanto pare era intervenuto a difesa del compagno andando comunque a discutere a sua volta con l'allenatore ma anche comunque intervenendo per non non far modo che quello che poi qualcuno ha raccontato che comunque è successo ugualmente ovvero che venissero alle mani ripeto cosa che sembra che sia venuta in un secondo momento e per questo oggi si parla di possibili dimissioni questo perché perché in realtà non solo gasperini sente di aver perso il controllo 1 sul capitano della squadra e questa è una cosa fondamentale 2 su un elemento per lui importantissimo quindi a per il momento sta insomma assaporando quello che potrebbe accadere ovvero una squadra che a quel punto di cui non ha più il controllo e che non può portarlo ad avere i risultati che lui spera di ottenere non solo ovviamente in tutta questa polveriera incominciano a crearsi anche delle fazioni nel senso che sembrerebbe che tutti i giocatori sudamericani che non sono boghi all'interno della squadra atlantina tipo zapata tipo murier così si sono diciamo tra virgolette schierati se non proprio a parole ma con i fatti non dando più quella garanzia di affidabilità all'allenatore proprio dalla parte del loro capitano del papo gomez a quel punto gasperini capisce sta capendo che non solo non ha controllo su uno giocatore o barra due come ilic ilic ma sta perdendo nettamente il controllo dell'intera dell'intera squadra o comunque della gran parte della squadra comunque importante fosse uno fosse due fossero dieci un allenatore deve essere in grado di poter utilizzare tutti in modo tranquillo per poter fare il suo lavoro gasperini a quanto pare sta capendo che questo questa sua possibilità di gestire la squadra sta svanendo e quindi ha minacciato le dimissioni per molti in realtà dimissioni che sono state ufficialmente già date ma che sono state respinte dal presidente ed è lì che molti invece credono che farà qualcosa di più plateale a questo punto dove il presidente o la squadra comunque ci devono essere poi prese delle decisioni importanti ovvero portare al termine della partita contro l'ajax manifestare le proprie dimissioni a quel punto che potrebbe succedere che il presidente dice no nulle accetto e si arriva al secondo scenario ovvero quello che in realtà non sarà gasperini a lasciare l'atalanta ma l'atalanta provvederà ad allontanare il papo gomez resta il fatto ragazzi che se tutto questo fosse vero fosse confermato ma anche in minima parte perché se si parla di 1 2 4 5 giocatori che si rivoltano anche se se ne va via uno comunque rimane una situazione molto difficile quindi va via l'allenatore onestamente è un valore che va via dell'atalanta è un valore che in questi anni ha fatto sì che molti giocatori prendessero quota grazie proprio al gioco e a quello che ha portato l'allenatore d'altro canto perdere gomez papu gomez si perde secondo me un 30 per cento delle potenzialità dell'atalanta perché molto moltissimo il potenziale dell'anta enorme nei giocatori però il motore all'interno del campo durante le partite al 30 per cento lo fa girare il papu gomez quindi l'atlanta in un modo o nell'altro andrebbe comunque a perdere tantissimo ed è un peccato ragazzi io ve lo dico chiaramente io non so se questo sia tutto vero spero che sia tutta una bolla mediatica spero che sia la solita cosa come può succedere a lazio dove uno dice una cosa e tutti gli altri gli vanno cioè il gioco del telefono uno dice lo sai che gasperini ha alzato un po la voce nello spogliatoio dall'altra parte del capo nel frattempo gasperini ha sputato un faccia a gomma e sgomeli ha dato un cazzolotto cioè io spero che sia una cosa così ragazzi onestamente perché mi dispiacerebbe veramente molto che questa magia della dea che secondo me era arrivato a un punto veramente della maturazione e ho visto le ultime partite in champions e che in campionato onestamente l'ho vista un po un po trattenuta però in champions ho visto una maturazione partita dopo partita il non giocare sempre allo stesso modo ma affrontare gli avversari capendo che tipo di avversario ha davanti insomma una durazione da grande squadra e adesso era proprio il passaggio successivo ovvero portare tutta questa maturazione al agli scontri dagli ottavi in poi e vedere effettivamente se l'Atalanta poteva essere del tutto promossa o rimandata invece oggi sembra che l'esame non ci arriva proprio e questo sarebbe sarebbe un peccato ragazzi questa è la situazione in generale vi ho detto a me se fosse vero dispiacerebbe un casino però sono cose che non sono impossibili all'interno di uno spogliatoio e neanche all'interno spogliatoio perché mi ricordo un De Rossi una persona di solito abbastanza tranquilla che durante una partita si fionda in panchina su un giocatore aggredendole da quel momento ovviamente De Rossi ha smesso di allenare quantomeno nei tornei importanti può succedere può succedere che durante una pressione durante poi bisogna vedere se già c'era qualcosa dietro tra Gasperini Gomez e altri giocatori insomma resta fatto che il rapporto di cinque anni logora a certi livelli quindi può essere che a un certo punto si perdano si perde al controllo e si vada a creare una situazione esplosiva proprio perché ci sono degli accumuli regressi che che vengono scatenati tutti insieme quindi io non conosco assolutamente anzi amici talantini se voi ne sapete di più se sapete cose più dettagliate magari così quindi al di là di chi mi sta chiedendo ci sarà anche una fetta di atalantini più addentrati che magari ne sanno di più aggiornateci perché non vorrei riportare cose errate però questa è la situazione che sono andato a leggere ho aspettato già diverso tempo per spiegare il tutto perché sono a leggere diverse cose però sembra che tutti puntino su questa direzione ovvero che comunque colpito non colpito 3 4 1 2 3 4 giocatori non si sa quanti resta il fatto che c'è una situazione abbastanza delicata all'interno dello spogliatoio vedremo contro l'ajax come si rifletterà sul campo questa cosa perché se ci sarà un e credo che non convenga ai giocatori questo se ci sarà comunque un ajax che secondo me è alla pari teoricamente con l'atalanta a livello di gioco però se ci sarà un ajax che dominerà l'atalanta è un'atalanta troppo rimissiva l'atalanta che evidentemente strana avremo una controprova ulteriore se gasperini dirà qualcosa dopo la partita però nel frattempo fateci sapere se secondo voi tutto quello che viene raccontato qui tra i giornali e le radio corrisponde al vero o è solo qualcosa perché qualcuno vuole un attimino far muovere o far fare un terremoto sotto l'atalanta perché l'atalanta è comunque un avversario temibile per molti olive dolci vi saluto ci vediamo al prossimo video che a questo punto sarà per curiosità in risposta a questo mio ovvero tutto quello che sarà successo tra ajax atalanta in campo e fuori alla prossima i'm warning you next time it's gonna be blast ciao ciao